Ben ritrovati da Terni, tutti a disposizione di mister Cristiano Lucarelli per la partita contro il Bari, non convocati solo Proietti e Paghera. Una rossa che è profondamente rinnovata dopo il passaggio di società dal Unicusano al nuovo presidente Nicola Guida, il lavoro del direttore sportivo Capo Zucca è stato all'impronta del rinnovamento, del ringiovamento e dell'abbassamento del Monte Ingancio e quindi è una ternana giovane, la nuova ternana di Lucarelli che ha perso le prime tre partite di campionato ma mai demeritando, giocando sempre alla pari, raccogliendo assolutamente meno di quello che avrebbe meritato. Per quello che riguarda la formazione, confermato il 3-5-2, il modulo di questo nuovo corso rosso-verde con Gianna Rilli in porta, in difesa dovrebbero giocare da destra a sinistra Diachite, Sorensen e Mantovani, i due esterni di centrocampo, Corrado a sinistra e Casasolo a destra, in mezzo Loboico, Luperini e Favasuli, in attacco il punto fermo è Falletti il dubbio è sul partner d'attacco del capitano della Ternana, potrebbe giocare Raimondo, il giovane che è molto ben impressionato andando a segna a Catanzaro, potrebbe giocare l'esperto Favilli oppure l'ultimo arrivato in attacco, ovvero Dionisi.